Cosa trovate qui? Video di gameplay, archivio di Direct Twitch, Play of the Game di Overwatch, e qui gioco a GTA V Online, Overwatch World of Warcraft e più o meno tutti i giochi su cui mi capita di mettere mano nel PC. Spero che vogliate seguirmi in futuro e che i video vi piacciono. Ciao a tutti! Ciao a tutti!